Musica Musica Amiglio sportivi, tivosi del Bari, vi ritrovate nel nostro appuntamento con il bianco e il rosso TV Sport. Beh, lo avrete sicuramente saputo, tira brutta aria intorno al Bari, intorno ai giocatori in particolare. Ieri c'è stato un assalto praticamente all'antistadio con un paio di ceffoni, chiamiamoli così, a Belmonte, con minacce ad altri giocatori, con minacce anche più pesanti ad Alvarez, per fatti pare maturati lontano dal terreno di gioco, per fatti che riguardano probabilmente qualcosa che non c'entra nulla con il calcio. Insomma, aria pesante intorno al Bari e prima del derby. Vi dico subito che oggi l'allenamento è a porte chiuse, ma perché non è stato fatto anche ieri l'allenamento a porte chiuse? Mi chiedo, visto che comunque era prevedibile, non solo per la retrocessione, ma anche per la questione spalma stipendi, che qualcuno in qualche modo avrebbe cercato di chiarire a muso duro con la squadra questo tipo di comportamento. Invece è andata come è andata, con un centinaio di tifosi, molti riconducibili dal gruppo Ultras, che sono entrati sul terreno di gioco dopo aver lanciato fumogeni, petardi e dopo aver esposto uno striscione. Per la serie se perdete il derby sono cavoli amari, ve lo dico in maniera un po' più elegante. Sta di fatto che poi c'è stata questa invasione di campo e il faccia a faccia con i giocatori del Bari, alcuni assolutamente terrorizzati dalla situazione che stava maturando. Beh, i giocatori del Bari hanno tante colpe, ma arrivare al punto di alzare le mani, aggredire, minacciare, picchiare, francamente non ha senso e sapete che dal nostro punto di vista ovviamente non può che esserci una censura rispetto a questo tipo di comportamento. Che poi i giocatori dal loro punto di vista debbano mantenere un profilo diverso. Io mi riferisco ad alcune cose, cioè a del fatto di spalmare noi gli stipendi. E su questo Antonio Ramondo credo che abbia interpretato esattamente il mio pensiero. Non dovevano fare un favore a Matarresi, ma dovevano fare un favore alla propria coscienza. Cioè dire che ho fatto schifo, almeno vengo incontro a questo tipo di richiesta. A parte questo, io devo dire che forse i giocatori devono rendersi conto che se guadagnano 400, 500 mila euro, o un milione hanno dei doveri precisi, hanno dei doveri precisi, quello di fare il massimo per una squadra di calcio, di condurre una vita assolutamente professionale, quindi sono deprecabili. Però di qui, come dire, ad aggredirli, prima verbalmente, attraverso anche qualche schiaffo, francamente. Anche perché il terzo episodio di questo tipo che accade quest'anno, francamente noi non possiamo che essere in disaccordo con questo tipo di comportamento. Così come non capiamo come mai il Bari li abbia fatte ancora una volta allenare all'antistadio, pur cogliendo l'aria amara che c'era intorno al Bari. Punto. Questo è il mio punto di vista rispetto a questa vicenda. Nel frattempo io presento il mio ospite, Giuseppe Manzari, presidente dell'Associazione Bari Intesa. Ciao Giuseppe. Buonasera. E ben ritrovato. Bisogna dire che quest'anno ci sta capitando tutto quello che di peggio possa capitare in una stagione. Io spero che finisca e che, insomma, si possa tornare almeno alla normalità. Perché io non ricordo francamente di aver seguito un campionato, una stagione così brutta. Sì, ovviamente, Enzo, sono d'accordo con te sul discorso di condannare questo tipo di episodi. Anche se, ovviamente, i giocatori hanno le loro responsabilità enormi in questa annata. Figuriamoci però, ovviamente, oltre un certo limite, non bisogna mai travalicare. Anche se devo dire, Enzo, che comunque i giocatori sono la punta dell'iceberg di una situazione in cui, a mio modo di vedere, non solo i giocatori, non solo la società, ma tutta la città quest'anno è retrocesso. Io sentivo ieri Elio Di Suma, che io conosco e lo stimo tantissimo per quello che fa, che diceva che non bisogna sparare sulla Croce Rossa. Il discorso è che è vero che non bisogna sparare sulla Croce Rossa, però ci sono stati dei momenti in cui, almeno noi di Bari in testa, abbiamo voluto lanciare dei piccoli allarmi che non sono stati colti praticamente da nessuno, oppure in parte da qualcuno della stampa, oppure in altri casi siamo stati tacciati di disfattismo o roba del genere. Quando invece, quando abbiamo visto dei campanelli d'allarme, almeno a nostro modo di vedere, quando si vedono i campanelli d'allarme bisogna dare allarme. E quindi non è un modo per, se le cose vanno bene, essere disfattisti. È un modo, faccio un esempio, all'inizio della stagione, ma ne posso fare tanti negli ultimi anni, all'inizio della stagione quando abbiamo detto che non potevamo fare un campionato con quarta punta Caputo, ma non per lui, con tutto il rispetto per Caputo, oppure con un numero contatti di difensori, e ovviamente, come al solito, siamo stati tacciati di disfattismo, oppure quando abbiamo detto che era sbagliato liberarsi di un direttore sportivo come Perinetti, che si è andato nel silenzio assoluto, penso nel silenzio assoluto, perché io non ho mai visto in nessuna piazza andare via un direttore sportivo vincente come Perinetti nel silenzio assoluto dei tifosi. Il Bari stava in Serie A, andava bene, fa niente, siamo a Perinetti. Io ricordo il giorno dell'addio di Perinetti c'erano cinque tifosi fuori dallo stadio, insomma dieci tifosi fuori dallo stadio, non di più. Che è tutto diritto. Ce n'erano più nel giorno dell'addio di Ventura, in verità, che nel giorno dell'addio di Perinetti, fermo restando che poi, come dire, ognuno è libero di comportarsi come ritiene, però, ecco, c'è la sensazione, francamente, di un parlare tanto e di un quagliare poco molto generalizzato. C'è un amico in linea, pronto? Sì, buongiorno Enzo, Rosario da Bari. Ciao Rosario. Volevo fare un intervento e volevo riproporre un paio di riflessioni che avevo fatto anche tempo fa. Ora, l'aggressione ai giocatori, che è sicuramente deprecabile, certamente non è all'altezza di un pubblico e di una città come quella di Bari. Vuoi dire che questa situazione, però, è di responsabilità di tutti e anche di voi giornalisti. E mi spiego. Questa società, che ha gestito in maniera assolutamente balorde, dir poco, una squadra e una situazione che poteva essere foriera di ben altri risultati rispetto a quelli dell'anno scorso, questa società doveva essere denunciata giornalisticamente già da tanto tempo. Alle prime avvisalie, e dice bene l'ospite, che si erano evidenziate avvisalie di una crisi, bisognava, da parte di voi giornalisti, cominciare a fare pressioni, ovviamente pressioni positive e costruttive. Cioè, ma Terrese adesso va stanato, questo signore non si presenta, non parla, non dice nulla della realtà che sta avvenendo a Bari. Cioè, qua dobbiamo sapere i soldi che si ne hanno fatto. Lui deve metterci la faccia, lui deve dare conto e ragione del perché sono state fatte certe scelte e del perché a fronte di un campionato quasi miracoloso come quello dell'anno scorso adesso ci ritroviamo addirittura ad un passo del fallimento. Bisogna dire una cosa, ma Terrese non utilizza soldi pubblici, quindi non deve dar conto in linea teorica di quello che accade. Nel senso che utilizza i soldi della S Bari, poi magari sul fatto che si possa fare un'analisi di come i soldi sono stati spesi, questo è un altro discorso, diciamo basterebbe guardare i bilanci per capire esattamente come il Bari ha speso i soldi. Io l'ho detto cento volte, il Bari li ha spesi in modo folle questi soldi con una incapacità gestionale senza precedenti. L'ho detto, più di questo io non posso dire a Matarese. Stanare cosa vuol dire? Dire a Matarese vattene? Se volete lo diciamo pure, Matarese vattene. Ok, intanto io non sono del partito, facciamo fallire questa società e poi rinasce il calcio a Bari. Non sono, francamente non riesco a sposare questa tesi. So che molti tifosi ce l'hanno anche con me perché io dovrei dire questo. Io non sono di questa tesi. Fermo restando che anch'io sogno un cambiamento di marcia, sogno uno che ci metta tanti soldi e che ci faccia sognare. Però in questo momento c'è una realtà, che entro lunedì bisogna versare 5-6 milioni di euro per iscriversi al campionato di Serie B senza penalizzazioni. Questa è la dura realtà. È inutile nascondercelo. Aspetto che si sappia qualcosa sull'imprenditore americano della Florida che si era fatto avanti. Ora si parla di un arabo. Insomma, io aspetto tutto, ma a braccia aperte ragazzi. Cioè proprio li vado a prendere io dall'aeroporto e li porto. Però fino a quando questo non accadrà, fino a quando questo non accadrà, io devo guardare alla realtà. Io di fare l'eccellenza, di fare la C2 non mi va. Lo dico con molta franchezza.